Siamo alla playa, non è inglese, è spagnolo. New York, New York, we are the champions, ho blati, ho blada, no, inglese non le sapete. Ho blati, ho blada, noi italiani, metti in spagnolo. Eh sì, metti in spagnolo. Chiudi nel cesso, chiudi nel cesso. Chiudi nel cesso. Chiudi nel cesso, chiudi nel cesso, chiudi nel cesso e mi chiudo volentieri. No, mi ritorno in mente, chiudi nel cesso. Chiudi nel cesso. Chiudi nel cesso. E te lo vedi! No, non ce l'ho più caricata, controlla, l'ho già fatta. Quanto c'è adesso? 12 no, io ho chiuso il bambino, io ho chiuso il bambino, io ho chiuso il bambino, però la cassa non lavorava, era diventata anche pericolosa per i bambini, per i bambini, per i bambini, per i bambini. Poi, adesso, se poi non era tutte le volte che era a casa e non c'era quella suplenza. Poi, adesso, se poi non c'era quella suplenza, per i bambini, per i bambini, per i bambini, per i bambini, per i bambini. Poi, adesso, se poi non c'era quella suplenza, per i bambini, per i bambini, per i bambini, per i bambini. Poi, adesso, se poi non c'era quella suplenza, per i bambini, per i bambini, per i bambini, per i bambini. Poi, adesso, se poi non c'era quella suplenza, per i bambini, 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 per grazie chicco ora scusami lui e lui e dopo te con un altro poi fate azzurro voi due vi preparate azzurro che la fate bene la fate molto bene ora scegliamo un'altra canzone e facciamo un'altra canzone ma cartoon ti piace no no ma sono tutte le canzoni vecchie sono tutte le canzoni di ciocca di cose di chi di cartoni mi ha detto cartunzo ma sapete non funziona io le so tutte ecco cartunzo hanno la capelli rossi capitano non vi appoggiate qui non lo puoi modificare vabbè ti va bene così vai 0 0 paola mia mette oggi quando hai fatto dice dai ok bacio guarda dai sotto è 21 doppia 1 a 0 per te eh nico reggi male eh no no pari mattia 1 a 1 reggi certo ti prendi 2 a 1 bravo papi pari 2 a 2 bella partita si fa un'altra eh anche se si dice 3 a 2 ma mattia dopo di questa volevo andare a sentire net 3 a 2 no bisogna cambiare campo 3 a 2 per chi? per te 3 4 a 2 4 a 2 mattia all'inizio è la peggiore di te a parte che ti giochi bene pure all'inizio eh net no e a 2 no 4 a 3 no 5 a 2 5 a 3 5 a 3 5 a 3 8 8 a 4 9 a 4 8 a 5 9 a 4 9 a 4 8 a 5 non ha toccato ecco dopo posso stridare no ma io vado 9 a 4 13 oh vabbè dai la ribatto ultima mia ultima mia quanto sarebbe sapone? 10 oh non sa che è 10 a 6 no 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 14 15 14 15 15 15 15 15 16 16 18 19 16 15 16 16 Non lo so, non c'è un po' di canzone, non c'è un po' di canzone, non c'è un po'. Non c'è un po' di canzone, non c'è un po'. Non c'è un po' di canzone. 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 Non c'è un po' di canzone.